Dopo la manifestazione Prima la Salute, organizzata dall'amministrazione comunale di Polistena, che ha visto il coinvolgimento di una platea variegata di sindaci, associazioni e cittadini per il rilancio della sanità pianigiana e pubblica, arrivano le lamentele. I primi a sbottare sono i grillini. Il locale meet-up di Polistena, libertà e partecipazione, proprio sull'evento a cui avevano dato ufficialmente pieno appoggio, ha inteso presentare le proprie rimostranze al primo cittadino Michele Tripodi. Dopo l'uscita pubblica della deputata Federica Dieni, che aveva invitato ad evitare passerelle politiche sulla delicata questione della difesa della sanità pubblica nel comprensorio, dichiarandosi però dalla parte della sanità pubblica, dalla parte dei pazienti e dalla parte dell'ospedale di Polistena e di tutti quei territori spogliati dei servizi essenziali, da un commissariamento nefasto e da una programmazione regionale non all'altezza dei bisogni della popolazione, è toccato agli attivisti completare le lamentele, stigmatizzando il comportamento del sindaco ritenuto discriminatorio in merito alla mancata iscrizione nella lista ufficiale dei movimenti politici aderenti alla manifestazione tenuta dal Comune e vista dai pentastellati alla stregua di una volontaria esclusione. Vorremmo sapere dal primo cittadino di Polistena perché tale atteggiamento vessatorio nei nostri confronti? Cosa lo spinge a non rispettare gli avversari politici locali che non hanno le stesse sue idee politiche? Sono le domande che gli attivisti rivolgono all'indirizzo del sindaco Tripodi a cui hanno voluto formulare l'invito a valutare per il futuro con più serenità le proposte di collaborazione che gli si offrono anche se queste vengono da parti politiche non appartenenti alle sue.